il bingo di gioco digitale ti sorprende scopri le nuove sale a 30 simboli e a 75 numeri registrati ricarica almeno 10 euro e ricevi un bonus del 50 per cento fino a 50 euro gioco digitale tanto per divertirsi il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza